Il Mosè viene utilizzato per la pulizia di addensamenti all'interno dei gestori, generalmente utilizzato sui digestori di impianti agricoli per il recupero degli addensamenti dalle croste superficiali. In questo caso trova anche una perfetta applicazione in questo impianto a Forsu per togliere tutta quella parte di plastiche in sospensione all'interno del digestore, plastiche che vanno ad inibire la fuoriuscita del biogas dal digestato. Troviamo su diversi impianti anche diversi metri di spessore di queste plastiche che sfuggono dagli impianti di pretrattamento. Si tratta di microplastiche che vanno a creare una sorta di cappello crostone molto denso sopra alla superficie del digestato. La combinata perfetta viene con il braccio Power Mix, un braccio da 38 metri con in punta un miscelatore di 1,80 m e entrando all'interno del digestore va a riportare in soluzione questa plastica. Noi col Mosè andiamo a pescare sotto il pelo libero del digestato trascinando all'interno dell'impianto di separazione digestato carico di plastica. Le plastiche vengono separate e avviate al processo di combustione e il digestato viene rilanciato all'interno del digestore. In questo modo viene garantito il mantenimento del processo biologico. Riusciamo a trattare oltre 250 metri cubi ora dipende sempre dalla quantità di materiale addensato che arriva in bocca all'impianto. L'utilizzo della macchina è indirizzato a chiunque ha problemi di croste all'interno dei digestori e non vuole compromettere le produzioni.